Oggi vi spiegherò come bisogna organizzarsi per consentire lo scaricamento delle app dal vostro sito. E nei miei esperimenti mi sono anche accorto che la app del Meteo che funzionava bene in Ripple dava problemi non da poco quando ho semplicemente fatto a funzionare nell'emulatore si, un recente aggiornamento di Windows 10 mi è risolto anche il problema con quel bello oggettino problema che è stato confermato anche quando ho scaricato la pick up dal mio sito su un dispositivo reale infatti recentemente ce l'ho fatta anche a mettere le mani su un tablet Android 5.0 un Asus ZenPad 10 ve lo sto dicendo perché non ho controllato prima se non disponibili i driver USB per poter collegare e fare il debug tramite l'ADB ricorderete e sono rimasto un po' fregato per cui l'unico modo per poter vedere la app sul mio tablet è stato proprio quello di sperimentare e quindi di nuovo non tutto il malo per nuocere lo scaricamento di una app da un sito ho fatto anche alcuni ritocchi alla logica dell'aggiornamento delle pagine della app in modo che si dimostri più consistente per cui vi conviene scaricarvi lo zip con l'intero progetto a cui ho fiancato nello zip anche la pagina da caricare sul sito per rendere più affidabile lo scaricamento della pick up come andremo a dettagliare tra poco e mi raccomando ricordatevi di andare a modificarne nel sorgente che scaricherete nell'index questa riga dove metterete l'indirizzo del vostro sito e nell'index.js lì dove ci sono le chiamate Ajax di nuovo l'indirizzo del vostro sito tutto il resto non è cambiato cioè la pagina PHP e il database che servono per fornire alla app i dati che richiede ma qual era il problema? le chiamate Ajax non ne volevano sapere di funzionare per cui quando chiedeva l'aggiornamento, il dati meteo o i dettagli turistici niente, ho subito pensato e poi alcune ricerche me l'hanno confermato a problemi di accesso a domini esterni per cui ho aggiunto qui questa riga e nel config.xml dove già c'era comunque questa clausola di accesso a domini che mi pareva aprisse a qualunque dominio con l'asterisco ho aggiunto comunque in modo esplicito il sito di AU e il sito su cui risiede la pagina PHP e il database se tra parentesi questo è un altro punto in cui dovete ricordarvi di andare a mettere il vostro di indirizzo la vera soluzione o comunque una parte che era necessaria è questa cioè andare nei plugin sempre nei config.xml ad aggiungere, lo troviamo in fondo, white list senza questo anche se nel config.xml ci sono quei siti consentiti di fatto poi Android blocca l'accesso non c'è bisogno poi di scrivere nulla nel codice sorgente è sufficiente proprio aggiungere questo plugin basta bene, adesso possiamo procedere a far generare la pk da distribuire innanzitutto vi ricordo che è necessario che la app sia firmata come ho spiegato nelle prime lezioni di questa playlist nel caso andatevele a rivedere al che dovrete anche sistemare nel build.json che scaricherete con il mio progetto anche questi riferimenti alla vostra password quella che avete indicato al momento della generazione delle chiavi poi dobbiamo andare a scegliere qua release Android e quest'ultimo passaggio poi è fondamentale dispositivo o device se state utilizzando una versione in inglese del visual studio ultimo step per la build andate qui sul nome del progetto pulsante destro ricompila ovviamente aspetterete di vedere qua nell'output il termine dell'operazione localizziamo la cartella con la build clicca destro sempre sul progetto apri cartella qua in fondo apri cartella in esplora file la troverete in bin android release eccola questa se si trattasse di un amico o di una ristretta cerchia di utenti selezionati e consapevoli potreste anche a limite spedirla per email e i destinatari all'apertura della stessa sul dispositivo si vedrebbero proporre dal sistema l'installazione se vogliamo renderla disponibile da un sito provvederemo ovviamente prima all'upload usando il classico programma di FTP nella cartella che preferite nella struttura del vostro sito ma scoprireste che non è sufficiente preparare una paginetta con un link che punta direttamente al file caricato classico a href eccetera indicando come href appunto il file apk perché tentando di raggiungerla dal browser di android a meno questa è la mia esperienza android si rifletterebbe comunque di scaricarla l'intoppo è legato alla specifica a livello di server web dei meme type cioè dei tipi di file php asp net eccetera jpeg zip e anche quelli per android che potrebbero non essere stati configurati se il vostro sito non è in housing per cui o su server virtuale per cui potete fare più o meno quello che volete potrebbe non essere immediato ottenere dal vostro provider la configurazione del server web che vi ospita ad esempio il mio sito è ospitato da Aruba in teoria dovrebbe essere già configurato nella pratica o in contatto problemi tendiamoci magari per qualche cosa che stavo sbagliando io allora ho preferito risolvere la radice cercando qualcosa che gestisse lo scaricamento e al contempo impostasse con certezza assoluta il meme giusto la soluzione l'ho trovata sul sito androidiani.com qui avete l'indirizzo completo dove questo utente nei guai più o meno per i miei stessi motivi ha gentilmente postato questo codice ed è giusto anche mostrare i suoi ringraziamenti alla persona che l'ha aiutato a andare nella giusta direzione ecco io vi ho fatto trovare nello zip di questa video lezione a fianco della cartella con la soluzione anche la paginetta in cui ho incorporato questo codice se metterete questo file e la pk in una cartella che non è all'esterno a livello più alto del sito ma ad esempio dentro una cartella dovrete aggiungere il suo nome qui è chiaro che si può anche proseguire barra altra cartella barra altra cartella e così via il nome della pk e poi il resto lo lasciate stare così com'è sostanzialmente viene creato un oggetto adolib stream col quale si carica l'immagine binaria della pk e poi si comanda un response binary write dello stesso file quindi il flusso dei byte della pk è letto e restituito a chi sta chiedendo la pagina chi vorrà scaricare la app dal vostro sito troverà da qualche parte un link che punta a questo app punto asp farà tap e questo è un altro punto importante purtroppo il nostro sito non ha la credibilità del google store per cui è una fonte cosiddetta non affidabile sconosciuta per cui il visitatore potrà scaricare la app e installarla solo se avrà impostato l'android andando nelle impostazioni sicurezza e alla voce origini sconosciute dovrà metterla a on e questo dovrà essere fatto prima di tentare di raggiungere il link infine sempre in rete ho trovato questa alternativa per chi vuole usare il php e non l'asp metterò anche questo file nello zip scaricabile avrete già sicuramente visto sono pochissime righe che dovrete cambiare qui qui e qui il nome e eventualmente anche la posizione del vostro apk vi confermo che entrambe le soluzioni asp e php le ho testate e sono riuscito a scaricare correttamente la pk sul mio dispositivo reale più che altro è il servizio di yahoo che sembra avere ogni tanto dei momenti di smarrimento e non risponde e potrebbe ingannarvi e farvi pensare che il problema è nel vostro codice quindi nel caso aspettate un pochetto qualche oretta e poi riprovate e per oggi avrei finito a risentirci